Raffica di raccomandate, il comune di Vicenza mantiene la promessa, chi non paga le piazzolle di sosta nel campo di via Cricoli riceve lo sfratto. Il 30 giugno era il giorno che segnava l'ultimatum e restano sei famiglie che non hanno ancora effettuato il versamento né del primo né del secondo semestre per un totale di 100 euro. Dopo la notifica di oggi avranno 10 giorni di tempo per presentare al comune eventuali memorie difensive, dopodiché il procedimento per la revoca della piazzola e il conseguente allontanamento dal campo si concluderà entro 90 giorni. Tre mesi, insomma, a metà ottobre dovranno andarsene. Questa vicenda nasce dalla protesta dei cittadini che, visto il degrado portato dai nomadi, hanno lanciato molti appelli perché le regole fossero rispettate. Tanto che il sindaco Achille Variati, sollecitato dai nostri servizi, aveva dato un giro di vite con questa promessa. Chi paga l'affitto delle piazzole e rispetta il regolamento comunale può restare nei campi, gli altri se ne dovranno andare con l'intervento della forza pubblica. Dunque oggi sono partite le raccomandate, tra tre mesi vedremo che accadrà e noi ovviamente continueremo a controllare e a raccontarvi questa battaglia perché la legge sia uguale per tutti.